Musica Giornate intense ed inusuale per gli studenti di liceo classico Giovanni Meli. Credere in se stessi, dare una chiave diversa e lettura propositiva della vita, attraverso il pensiero di Sandro Formica, docente in leadership alla Florida International University e alla Bocconi di Milano. La comunicazione per aver successo nella vita, ma soprattutto per essere felici con se stessi, argomenti che hanno suscitato l'interesse degli studenti presenti al seminario, prossimi al conseguimento della maturità. Tecniche semplici ed efficaci messe in campo da Sandro Formica, che a suo dire mirano a rivoluzionare l'intera educazione mondiale. Sandro Formica, docente all'University of Florida, in leadership, ma anche alla Bocconi di Milano. Qua per dare forza, attraverso una nuova filosofia di vita, ai ragazzi del liceo classico Meli. Sì, come potete sentire dall'entusiasmo dei ragazzi, stiamo lavorando sull'aspetto dell'essere, che viene interpretato in misura molto astratta, quando in realtà è estremamente concreto. Quindi quello che ho fatto questa mattina è dargli sette punti, molto chiari, supportati dalla scienza, o sette discipline, se vogliamo, che gli permettono di prendere la vita nelle proprie mani, di aver successo e di sentirsi a proprio agio con se stessi e con i loro doni, perché secondo me tutti noi nasciamo per contribuire in qualche modo al mondo con i propri doni. Un mini corso motivazionale che forse agli studenti serve tanto. Sì, assolutamente. Io guardate, ho eliminato la televisione otto anni fa, perché volevo avere il controllo delle informazioni che stavo ricevendo. Quindi la televisione dà tanti messaggi positivi, come questo di ora, però è molto molto importante fare il lavoro interiore, invece che essere influenzati da fattori esteriori. Purtroppo però sono spesso i fattori esteriori che coinvolgono emotivamente colui che li ascolta. Questo sì, è proprio per questo che per esempio negli Stati Uniti i corsi più importanti, anche da Harvard, da Stanford, sono corsi in consapevolezza e quindi sono quei corsi che ti permettono di lavorare su te stesso per non farti influenzare dagli aspetti esteriori e quindi selezionare quello che nel mondo esterno ci interessa e vogliamo ritenere, invece quello che non ci interessa vogliamo eliminare. Professore, a proposito di credere in se stessi, la differenza che lei ha riscontrato tra uno studente italiano nelle proprie possibilità e uno studente degli Stati Uniti? Vedi, negli Stati Uniti le scuole enfatizzano quei doni o quelle caratteristiche positive che gli studenti hanno. In Italia non è necessariamente così. Secondo me gli studenti italiani hanno molte più potenzialità di quelli Stati Uniti. Nascono più creativi, si danno da fare di più se vogliamo e quindi sono meno strutturati. Però quando entrano in un sistema, quello scolastico, che è molto strutturato, poi in qualche modo vanno a limitare quelle capacità, quella creatività che hanno proprio perché non gli viene enfatizzata da un sistema che tende ad essere molto, tutto sullo stesso livello. Selettivo. Molto selettivo, esatto. E quindi bisognerebbe implementare la motivazione all'interno come disciplina scolastica a un certo punto. Assolutamente sì. Einstein diceva che la creatività è più importante della conoscenza. Ora, non mi aspetto di avere solo corsi in creatività e in immaginazione, ma almeno uno me lo aspetterei. Quindi il fatto di coltivare quello che è vero e forte dentro di noi è un elemento essenziale per vivere una vita migliore. Lei ha anche avuto a che fare con imprenditori, a proposito di motivazione. Invece le differenze tra gli imprenditori italiani e gli imprenditori statunitensi nel modo di approcciare il business. Gli imprenditori italiani si aspettano più supporto da elementi esterni, a parlare dalla struttura pubblica o meno, anche se sono più puniti chiaramente perché le tasse sono superiori. Però in realtà sono quelli che tendono a giocare più alla difensiva. L'americano invece è molto più proattivo, nel senso che inizia a prevedere dei trend, dei avvenimenti futuri, per cui si prepara affinché sia pronto per offrire prodotti e servizi che saranno richiesti dai clienti di domani. Tornando agli imprenditori italiani, statunitensi, un diverso modo sicuramente di intendere la vita che già parte dal periodo scolastico. È una maggiore fiducia in se stessi. In sostanza veramente c'è questa intenzione di puntare, di investire sulle caratteristiche migliori della persona negli Stati Uniti. Qui c'è un po' un appiattimento. Maria, quinto liceo classico, ex terzo liceo, ma è un percorso di studi che sicuramente non parla di motivazione. No, sicuramente no. Il nostro è un percorso di studi che più che altro ci fa aprire la mente, ma poi ci fa chiedere che cosa vogliamo fare dopo, che cosa veramente vogliamo fare per cambiare il mondo. Ci lascia le idee confuse più che altro il nostro percorso di studi. Oggi però abbiamo avuto, penso quasi tutti, una certa soddisfazione, una certa apertura di mente perché tutti abbiamo deciso i nostri propositi di vita, abbiamo cercato di capire quali sono veramente. Cosa ti è rimasto di questa giornata? Allora, fondamentale secondo me questo incontro perché sono tematiche di cui bisogna parlare. È importante che se ne parli in delle scuole, è importante che se ne parli con dei professori presenti perché sono dell'idea che il professor Formica sia completamente diverso dal prototipo del professore che abbiamo noi. Abbiamo bisogno di queste figure e se posso il mio proposito di vita è essere un oratore ed essere un oratore come il professore e come molti altri che conosco perché come ha detto lui la formazione ce la dobbiamo creare noi stessi. e personalmente io me la sto già creando ed è fondamentale ed è importante. Formare sì, però credere in se stessi è altrettanto fondamentale. Credere in se stessi già da 18 anni. Beh, trovo che sia una cosa fondamentale appunto e a 18 anni anche di più perché ci accingiamo a iniziare una vera e propria vita. Quindi penso sia fondamentale davvero. Sfatare dei modi di pensare che ci vengono inculcati dai primi passi. È la base di questo processo di evoluzione comunque quindi sta anche a noi, le nuove generazioni comunque di cambiare, quindi il nuovo pensiero e anche attraverso il professore si può cambiare, ce l'ha dimostrato lui nella sua vita comunque che si può fare tutto questo. Anche tanta apertura però da parte di un liceo classico nell'affrontare queste tematiche innovative. Certo, bisogna avere disponibilità al cambiamento comunque. Penso che è giusto che bisogna aprirsi a nuovi modi di pensare cercare di ampliare i propri orizzonti, ampliare la propria mente per creare un mondo migliore. Dico ma anche da parte dei vostri docenti è stata questa voglia di dare una svolta sotto questo profilo. Un primo passo che può essere fondamentale. Grazie. 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 Grazie.